Inizia la carriera artistica come autrice, ottenendo il diploma alla Scuola Nazionale per Compositori. Il primo tentativo riuscito è con la canzone Questi Figli, scelta personalmente da Gianni Morandi per il suo album Uno su mille del 1986. La canzone tratta le ansie di un padre o una madre verso i propri figli. Morandi fu colpito dall'abilità della Nava nell'immedesimarsi negli stati d'animo di un genitore. Ottenuto quindi un contratto discografico con LRCA Italiana, nel 1987 e nel 1988 e al Festival di Sanremo. Prima con Fai Piano che viene qualificata alla finale arrivando ottava su otto finaliste. L'anno seguente con uno spiraglio al cuore che viene eliminata la prima serata. Supervisore artistico è Antonio Coggio che artisticamente parlando sarà il suo braccio destro per l'intera sua carriera. Le due canzoni verranno inserite nel suo primo 33 giri per paura o per amore, uscito a ridosso del festival, e che otterrà un tiepido successo di vendite ma conquisterà la targa Tenko come migliore opera. Prima, in questo album, la canzone d'apertura è dedicata a Christa M. Cauliffe, conosciuta come «La maestrina dello spazio», una giovane insegnante statunitense che morì tragicamente nella esplosione dello shuttle avvenuta. Nel 1986 il giorno 28 gennaio, che è anche il titolo del brano, nel 1989 è la volta del giorno e la notte, un'opera piuttosto convincente sia per i testi che sotto il profilo musicale, dove si sente la mano di Luis Enric Bakalov. Una canzone ivy contenuta, dentro di me, subisce gli strali della censura a causa del suo testo ritenuto scabroso e troppo descrittivo, riguardo ad alcune situazioni a sfondo sessuale. Come spesso accade, quest'atto censorio diviene una chiave di volta per far parlare di sé. Maurizio Costanzo prende pubblicamente le difese della Nava, invitandola numerose volte nella sua seguitissima trasmissione televisiva e facendole eseguire diversi suoi brani, compreso quello tanto discusso. Al Festival di Sanremo ritorna nel 1989 come coautrice del brano di Edoardo De Crescenzo come Mi, Vuoi. Nel 1991 si presenta nella duplice veste di cantautrice con Gli Uomini, e in quella di autrice con Spalle al Muro, che inaugura il sodalizio con Renato Zero. Classificato sì secondo, l'estate dello stesso anno partecipa al Festival Bar, sempre in coppia con Renato Zero. Con Crescendo, titolo anche del suo terzo album, registrato a Londra dal celebre arrangiatore Geoff Wesley. In quell'anno prende parte anche una nuova edizione del Cantagiro, facendo squadra insieme al suo compagno di scuderia Mike Francis e proponendo in modo particolare, un altro suo singolo piccolo amore.